Una bella cosa oggi perché per la prima volta Santa Barbara si festeggia assieme, Marina Militare e Vigili del Fuoco, dando anche una mano a noi giornalisti che negli anni passati invece dovevamo saltare da una parte all'altra. Ma questi festeggiamenti insieme fanno un messaggio importante per la città. Uniti si può fare molto di più. Beh sicuramente, come ha detto lei prima, quest'anno siamo riusciti proprio a concordare questa celebrazione insieme e con l'aiuto di Sua Eccellenza Monsignor Santoro siamo riusciti addirittura a fare questa celebrazione ufficiata dal Vescovo all'interno del Duomo di San Cataldo. Quindi è stato un messaggio importante, come ha detto anche prima il Vescovo, veramente di unione delle forze per questa nostra importante e grande città di Tarant. Dopo tanti simboli, per esempio i mezzi dei Vigili del Fuoco qui su Corso Due Mari, che possiamo dire la casa della Marina Militare, i pompieri che stanno sul castello, tutte queste cose fanno bene, soprattutto a uomini che spesso in silenzio lavorano per la sicurezza di noi tutti. Sì, quello che dicevo pure durante la cerimonia, i miei uomini ma anche quelli della Marina sono abituati al sacrificio e ad affrontare i pericoli che tutti i giorni la cittadinanza può essere sottoposta. Noi oggi abbiamo voluto fare questa unione di intenti e di finergia istituzionale proprio per dimostrare alla città che uniti si può fare molto. E allora qui da Corso Due Mari un invito veramente a salutare e festeggiare Marinaie e pompieri e poi un invito alla nostra città affinché i ponti, una volta tanto, possano unire invece che dividere. Grazie, buon lavoro.